Il minimalismo mi ha sicuramente permesso di fare molto spazio, spazio per quelle cose che per me avevano veramente valore nella vita e non intendo solo spazio fisico, sì la casa si è alleggerita ma riguarda soprattutto il tempo libero. Ho guadagnato un sacco di tempo libero e ho cominciato a considerare veramente come impegnarlo. Il minimalismo è un bel viaggio nell'introspezione quindi comincio a chiederti come vuoi vivere, con chi vuoi vivere, quale lavoro ti appassiona veramente e ho cominciato a tagliare quei rami secchi come li chiamo io quindi ho cominciato a lasciare andare quelle cose o quelle persone che non mi davano più gioia, che non erano positive, che non erano stimolanti. Quindi ho cambiato lavoro, amicizie, gli hobby no, sono rimasti gli stessi ma mentre prima non avevo mai il tempo di farli ho quindi recuperato un sacco di tempo libero per potermi dedicare a quelle cose che mi danno veramente felicità che quindi sono il nuoto, passeggiare in mezzo alla natura, leggere. In passato non avevo mai tempo per queste cose, ora invece grazie al minimalismo ne ho parecchio e se ci pensate sono alla fine le cose più importanti perché sono quelle cose che parlano di noi, quelle cose che ci permettono di esprimerci, che ci danno gioia. Riassumendo, il minimalismo quindi mi ha permesso di passare da una posizione marginale a ritornare ad avere in mano le redini della mia vita, quindi non mi trascuro più, perché so che se io sto bene poi ne giovano anche le persone che mi frequentano, le persone che vivono con me. Molti pensano che il minimalismo sia sinonimo di ascetismo, di deprivazione, di avere poco, ma è proprio tutto l'opposto. Minimalismo significa aggiungere, aggiungere cose, persone che portano valore nella nostra vita, facendolo però in un modo molto più intenzionale rispetto a come facevamo prima. Questo purtroppo ho molta esperienza. In gioventù ho riempito il curriculum di esperienze di lavoro, ne ho fatte una marea, perché mal sopportavo l'ambiente lavorativo in cui mi trovavo al momento, mal sopportavo i colleghi, il capo ed ero sempre convinta che la prossima esperienza, il prossimo lavoro sarebbe stato migliore del precedente. Mai successo. L'arma con cui affrontare le sfide nella vita per me è stata la consapevolezza. Come ho detto prima ho smesso di farmi guidare dal pensiero compulsivo, dalla mente e ho cercato di prendere in mano le redini della mente. Se ci pensate in una giornata noi produciamo dai 40.000 ai 60.000 pensieri. L'80% di questi pensieri sono negativi, il 90% di questi sono gli stessi pensieri che abbiamo avuto ieri e il 95% della nostra giornata è guidata dall'inconscio. Non sarebbe bello invece essere più consapevoli e quindi essere più presenti e quindi non farci più guidare solo ed esclusivamente dall'inconscio, ma essere noi in modo presente a decidere quello che fare della nostra giornata. Ecco la meditazione in questo aiuta tantissimo. Quindi ho cominciato ad ascoltarmi e con l'ascolto è arrivata anche molta pace interiore che mi ha permesso di vedere le cose, le situazioni che mi si presentavano sotto una luce diversa. Ho cominciato ad affrontare dei colleghi che si erano permessi delle prepotenze, ho cominciato a richiedere al capo diversi cambiamenti. Ora il modo in cui affrontiamo queste sfide è determinante, cioè se io le affronto con un atteggiamento sereno, rilassato, ma sicuro di me si percepisce. Se io invece arrivo per parlare con il mio collega e sono già pronta ad accusare o pronta a puntare il dito, quell'atteggiamento contiene dentro di sé un esito certo, il fallimento. Ogni ambiente di lavoro è difficile a sé, è una situazione particolare, ma sicuramente vivere di più il momento presente, essere più consapevoli di quello che stiamo provando in quel momento, meditare, non agire contro quello che ci sta succedendo ma accettarlo e poi fare qualcosa per cambiarlo. Questi sono gli ingredienti che hanno trasformato la mia vita e il mio ambiente di lavoro. Ci sono state anche situazioni che per me erano intollerabili e quindi lì ho proprio lasciato il lavoro e ne ho trovato un altro. Un esempio su tutti è quando sono tornata dal volontariato in Africa non riuscivo più ad andare a lavorare. Io lavoravo in una zona di Milano molto lussuosa, molto benestante, frequentata da persone molto ricche e dover interagire con persone che facevano capricci per motivi futili mi dava proprio un senso di nausea a livello fisico e quindi lì sono stata io a decidere di andarmene. Quindi morale, ogni ambiente come dicevo prima è a sé, ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro ma sicuramente il modo in cui noi affrontiamo le cose ha un impatto enorme sul benessere generale nostro ma anche di chi ci circonda. Innanzitutto grazie per questa splendida domanda perché mi ha permesso di riflettere molto. Quello che posso dire è che sicuramente è dura fare pace con il proprio passato soprattutto se ci sono delle sfide che abbiamo affrontato e abbiamo perso o se abbiamo amato qualcuno che ci ha lasciato o se quel qualcuno ci ha deluso o se non ha creduto in noi o ancora se siamo stati noi a commettere degli errori, ad aver fatto del male a qualcun altro e poi ad avere dei rimorsi. Ancora una volta e scusatemi se sono ripetitiva, la meditazione e alcuni libri di crescita personale sono stati gli strumenti che mi hanno permesso di guardare il passato sotto una luce diversa. È stato un percorso lungo e difficile ma allo stesso tempo splendido perché accettarmi per quello che sono, per gli errori che ho commesso è stato veramente liberatorio. Durante le meditazioni pensavo spesso ad alcuni episodi che mi erano capitati in passato in cui avevo fatto del male a qualcun altro oppure quando avevo permesso a qualcun altro di fare del male a me. Io ho perdonato e mi sono perdonata. Lì ho capito veramente che molto del mio vissuto era dovuto alle insicurezze con cui ero cresciuta. Se sei una persona insicura cercherai ogni contesto per poter difendere il tuo ego e quindi sfodererai prepotenze, rabbia repressa. Ma se ci pensi bene queste sono situazioni che tu hai vissuto indipendentemente dalla tua volontà. Ti ci sei trovata dentro, non hai chiesto tu di trovarti in determinate situazioni quindi non è colpa tua. Poi è veramente importante comprendere che queste emozioni che ci tengono legate al passato ci frenano, non ci permettono di vivere pienamente il presente, ci precludono una felicità pura perché sono come delle zavorre che anche se noi non ci pensiamo sono lì, sono parte del nostro bagaglio. E tutto questo dolore accumulato a lungo andare crea un'energia negativa che occupa corpo e mente. Una delle strategie che ho utilizzato durante la meditazione è stato proprio osservare questo corpo di dolore così come lo chiama Eckhart Tolle, quindi questo macigno che abbiamo dentro intendo, guardarlo per quello che è come fossimo un osservatore, quindi avvertirlo all'interno del proprio corpo, sentirlo proprio fisicamente. Ecco in quel momento quando noi non ci identifichiamo più con esso, ma lo stiamo osservando dall'esterno, lì subentra consapevolezza e presenza. Ed ecco che è importante risolvere questi nodi che ci legano al passato, altrimenti possiamo prenderci in giro quanto vogliamo ma non riusciremo mai a vivere serenamente la nostra vita presente. La maggior parte delle volte si tratta sempre di perdonare, perdonare noi stessi, perdonare i nostri genitori, perdonare degli amici. Però una volta che perdoniamo lasciamo andare rabbia e risentimento e da lì questa sensazione di leggerezza che ci permette di stare bene, di vivere veramente al cento per cento il momento presente. Per me è stato un racconto di Wayne Dyer, è un motivatore che ha scritto diversi libri, è stata una sua frase in verità, vi è mai capitato di sentire cento volte magari anche la stessa cosa ma o non siete pronti per riceverla o semplicemente non è stata detta in un modo che vi ha colpito. Ecco la storia del perdono di Wayne nei confronti del padre ha fatto scattare qualcosa dentro di me. Lui a un certo punto dice proprio ho capito che tutto quel dolore che io provavo era una mia scelta, dipendeva da me decidere se continuare ad andare avanti con quel dolore, con quel macigno dentro di me o se lasciarlo andare. Certo non è stata una cosa semplice ma ci è riuscito e quindi quella cosa mi ha fatto scattare qualcosa, è stata come una frase illuminante, da lì ho perdonato, mi sono perdonata, ho lasciato andare e adesso vivo veramente veramente bene.